buongiorno ragazzi eccoci qua un nuovo video allora innanzitutto volevo dirvi che mi è arrivato questo pacco e adesso andiamo a vedere cosa mi è arrivato iscrivetevi al canale perché è gratis così mi aiutate anche con il canale allora ho comprato questa cosa su un sito molto famoso che inizia con la non vorrei non voglio sponsorizzare nessun canale anche perché non mi paga nessuno quindi ecco andiamo a vedere un attimo di cosa si tratta apriamo insieme allora era un po che aspettavo questo oggetto perché come sapete sto portando avanti l'impianto fotovoltaico e lo sto costruendo attraverso anche consigli di altri camperisti altri caravanisti e persone del settore che fanno questo lavoro e che mi stanno aiutando e piano piano sto costruendo il mio impianto paio da terra allora questa è una cassetta porta batteria perché per la sicurezza che non ci siano vapore oppure liquidi che escono dalla batteria è una cassetta chiusa c'è anche la cinghia per bloccare la batteria poi c'è il coperchio e viene posizionata nel mio caso nella dinette ecco volevo presentarvi questo oggetto che ho pagato poco ho trovato un buon affare sul sito ho fatto delle ricerche quello era il migliore a questo prezzo cassetta batteria canguro nera ok quindi se dovete installare una batteria io l'ho presa grande perché adesso una batteria piccola come prova giusto per vedere se l'impianto funziona devo ancora installare il pannello però ho già provato la batteria come batteria servizi funziona tutto quanto l'impianto devo soltanto collegare al pannello che ho già comprato lo devo soltanto installare quindi ecco questo è un altro passo e se mi seguite vi iscrivete al canale vedrete i nuovi video i nuovi sviluppi sull'impianto fotovoltaico a presto ciao a tutti